Siamo molto lieti di avere qui ospite Mr. Fan Wiyong, che è il CEO cinese del Shop of Shops. Chiederemo a lui di presentare il progetto al nostro uditorio. Grazie. Sono molto lieto di poter essere qui al salone del franchise in Milano per presentare il progetto Tuscani. Si tratta di un progetto che supera il modello classico tradizionale dei centri commerciali ed è un canale, un ponte, una piattaforma che veicola la cultura dei marchi dell'Italian Lifestyle in Cina attraverso un ritaglio su misura per i marchi italiani ma anche rispondendo alle esigenze della popolazione cinese, sempre più amante dei prodotti made in Italy. Quindi è un progetto non soltanto sui marchi ma è per la cultura italiana che arriva in Cina a esprimersi totalmente in modo sistematico, organizzato e recepibile secondo il mercato cinese.